Spariamolo, spariamo... Oh, due! Ce ne sono due! Spara il primo, spara il primo, uccidilo, uccidilo Ok, uno! Fuori uno, fuori uno! Fuori due, vai doppia kill, vai doppia kill Che quello sta dormendo! E vai! Doppia kill, ragazzi Doppia kill, quanta roba mi ha lasciato Hey guys, benvenuti sul canale di Chiamendola Brothers Io sono Giannanan ed eccoci qui, ragazzi Per la prima volta Su un gioco nuovo, ragazzi Su un gioco stile Fortnite Ragazzi, voglio provare questo gioco E ho pensato di provarlo insieme a voi Il gioco è Rules of Survival Cioè le regole della sopravvivenza Un gioco stile Battle Royale Stile Fortnite Appunto, che ci sono 120 giocatori Quello che sopravvive vince Quindi andremo a provare di fare una partita, ragazzi Amendo la Brothers, come vedete E vediamo un po', speriamo di riuscire a fare una bella partita Vediamo un po' il gioco com'è Vi lascio in descrizione pure il link per scaricarlo Anche se non mi hanno pagato per farvi scaricare il gioco Però, così lo condivido con voi Magari vi piace, magari ci facciamo qualche partita insieme Qualche volta, qualche live, eccetera, eccetera Ma andiamo, facciamo partire la partita E andiamo a giocare Andiamo a giocare, ragazzi Una partita contro 120 persone Speriamo di fare almeno qualche kill Speriamo di fare qualche cosa, ragazzi Vi ricordo che il gioco è per cellulare Quindi, pure per Android Fortnite non lo è Non c'è per Android C'è solo per iPhone Quindi, magari, se volete un'alternativa a Fortnite per Android Questo qui va bene Potete giocarci Qui vi spiego com'è, un po' scomodo come gioco Cioè, dal cellulare, alla fine Però io, come vedo, i movimenti Ho fatto una piccola prova prima di registrare il video Non sembra tanto, tanto scomodo Amendola Brothers farà vedere la sua potenza Intanto prendiamo la pistola E andiamo subito a sparare qualcuno Anche se questa è la sala d'attesa Proviamo a sparare qualcuno Quando esce il sangue Ma non muore, mi sa, non muore Spara, no, non muore Spariamo lei Ma l'avessi colpito una volta Ah, lei sì Vabbè, ragazzi Vabbè, ragazzi Vi faccio vedere direttamente la partita Perché qui la sala d'attesa Andiamo a vuoto Mi sto divertendo ad uccidere questa Che da pugni l'aria Ok, eccoci sull'aereo Pano tipo L'autobus di Fortnite Uguale Dobbiamo atterrare sulla mappa Vediamo un po' Ci lanciamo Il primo posto dove possiamo andare Buttiamoci Buttiamoci là Sembrano che ci sono delle case Buttiamoci su quelle case E magari c'è qualche arma Qualcosa che troviamo subito Impicchiata Ole Paracadute Adesso mentre a terra Chissà, chissà Speriamo di trovare subito qualcosa di buono Che buona arma Teniamo a terra Dai Entriamo subito in questa casa Andiamo ad aprire la porta Buttiamoci subito dentro Che altrimenti se viene qualcuno Qui che cosa ci sono Proiettili Prendiamoli Sempre buoni Già sono 119 rimasti Ma noi Cerchiamo le armi Oh Un'armatura buona Così ci fanno meno male Cerchiamo qualche altra cosa Qui cosa c'è Un mirino Io prendo sempre ragazzi Perché non Non ne ho idea Per il momento A cosa servo Tutta questa roba Però Cioè Me ne faccio un'idea Più o meno Me ne vado per un'idea Però Proviamo Un altro giù Ah il Oh Pure il caschetto Il caschetto E Lo zaino Che farà aumentare sicuramente La capacità delle robe da portare Ok Altri proiettili Mi serve un'arma Mi serve subito un'arma Mi serve un'arma Porca miseria Mi serve un'arma Arma Alla ricerca di un'arma Altrimenti come li uccido a questi Andiamo nell'altra casa Qui c'è Sento spari Sento spari Da tutte le parti Oh c'è questo di fronte Vai 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 Scappa 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 C'è questo di fronte Che non m'ha O non m'ha visto O non m'ha colpito Non lo so Ma va bene così Andiamo in quest'altra casa Qui che cosa c'è Eh la granata Ma non va bene Ci serve Una pistola Un'altra il metto E uguale a quello che ho io Quindi andiamo via Questo mi guarda Non sa proprio C'è un altro lì sopra Mamma mia Quanta gente Mi serve un'arma Posso fare stragi Con un'arma Quello c'è una pistoletta E non riesce a spararmi Dai 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 Andiamo nell'altra casa Magari troviamo un'arma Dai Con calma Come si sa Ah non puoi saltare Dovrei premere Vabbè Andiamo così Andiamo così Meglio non saltare Meglio non saltare Andiamo di qua Giriamo tutto in Ma dove sta l'entrata di questa Che è qui Ah la legna Dove sta l'entrata di questa Eccola Eccola Entriamo Dai dammi una pistola Cosa ho trovato Cavolo è La gallina Ma una bibita Prendi Sicuramente aumenterà l'energia Con il pollo in mano Sto Ma Mi serve una Oh eccola qui un'arma Eccola qui un'arma Grazie Grazie Un SMG se non sbaglio Ricarichiamo E andiamo subito a uccidere Andiamo subito a uccidere Usciamo fuori Usciamo fuori Ah no Qui non si esce Ah un altro Un altro zainetto Usciamo fuori Usciamo fuori ragazzi Usciamo fuori Fatemi sapere nei commenti ragazzi Se questo gioco vi piace Se l'avete giocato Se lo state giocando Oh già mi sparano Eccolo quello di prima Vai uccidiamolo Spara 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 Ucciso Grandissimo Prima kill Prima kill ragazzi Mi sento un pro player Mi sento un pro player Rubiamoci subito Tutta la sua roba Allora Prendiamo i medikit Un altro Oh Fucile d'assalto Grandissimo A posto Quest'altra roba non ci serve Andiamo via Mettiamoci il fucile d'assalto E andiamo alla ricerca Di altra gente Da uccidere Abbiamo fatto una kill Sono rimasti 88 Se non sbaglio Adesso Scusate la qualità Del gioco Ma logicamente Registrando da cellulare È un po' Un po' più complicato Ma andiamo Corri Corri C'è qualcuno Guardiamoci bene intorno Non c'è nessuno Ok Non c'è nessuno Corri 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 Dobbiamo andare nella safe zone Ragazzi La safe zone serve Serve la safe zone Quindi corriamo Corri Corri All'impazzata Corri Corri All'impazzata Corri Corri All'impazzata Perché manca un minuto e tre secondi Per la safe zone Quindi Dai 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 Corri 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 Abbiamo fatto già una kill Sono rimasti 59 ragazzi 59 Abbiamo fatto una sola kill Voglio fare qualche kill in più Lo troviamo qualcun altro Da uccidere Lo troviamo Quindi Vabbè ragazzi Vi metto quando trovo qualcosa Quando succede qualcosa di eclatante Oh Ho trovato la motocicletta Grandissimo Qui si possono guidare pure i veicoli Quindi andiamola a prendere Drive 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 Ok Andiamo E si guida Ah mi sento molto Undertaker Così Grandissimo Sull'Harley Davidson Sicuramente lo troviamo qualcuno Sulla motocicletta Andiamo Possiamo andare pure facilmente E velocemente Nella safe zone Questa è la prima cosa Che dobbiamo fare Dai corri 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 Siamo già nella safe zone Corriamo Corriamo Cerchiamo qualcuno Alla ricerca di qualcuno Da ammazzare Alla ricerca di qualcuno Da ammazzare Ci riusciremo Chi lo sa Chi lo sa Ma io ci voglio riuscire Voglio fare almeno 10 kg Almeno 10 kg Siamo nella safe zone Andiamo verso il centro Della safe zone Così Siamo già riparati Per le prossime A volte che si stringe La safe zone Chi sto combinando Con questa motocicletta Non lo so neanche io Saliamo le montagne Il cucuzzolo Della montagna C'è la neve Alta così E noi uccidiamo Qualcuno Dai Non si fa viva nessuno Non trovo nessuno Non trovo nessuno Qualcuno lo trovo Non c'è nessuno C'è nessuno Sono rimasti 35 adesso E non c'è nessuno Da uccidere Voglio uccidere qualcuno Corriamo a tutta velocità Corriamo a tutta velocità Eccolo uno Mi sembra di averlo visto Eccolo 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 Scendi 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 Spariamolo Oh due Ce ne sono due Spara il primo Spara il primo Uccidilo uccidilo Ok uno Fuori uno Fuori uno Fuori due Vai doppia kill Vai doppia kill Che quello sta dormendo E vai Doppia kill ragazzi Doppia kill Quanta roba mi ha lasciato Quanta roba mi ha lasciato per terra Mi sto divertendo Mi sto divertendo Sento che c'è qua l'ecco Eccolo vai Spara spara Mamma mia ragazzi Che pro player Che pro player 4 kill Siamo a 4 3 Proprio uno vicino all'altro Proprio Sono Sono in fuoco ragazzi I'm on fire Prendiamoci Zughiamoci tutta la roba che c'ha Prendiamoci tutte le munizioni che ci servono E qualche altra cosa Medikit eccetera Quanta roba c'aveva quest'altro Guardate qua Adesso ci zucchiamo tutto quello che mi può essere utile Oppure l'armatura di livello 2 Medikit non sono mai abbastanza Ok Sicuramente starò sbagliando qualcosa Starò lasciando qualcosa di buono Ma ricarichiamo Vediamo C'aveva pure lui il pollo Di nuovo in moto Alla ricerca del prossimo Del prossimo da uccidere Giriamoci in toro Oh un altro lì Un altro lì Ma sta fermo Ma sta giocando Grazie Grazie della kill Oh colpisco Grazie della kill amico Mori Oh e mori Ok 5 kill 14 rimasti ragazzi 5 kill 14 rimasti Ragazzi questa partita durava un'eternità Davvero Ma Siamo ancora a 9 kill ragazzi Ho fatto 9 kill E sono rimasti solo 4 ragazzi Siamo alla fine Siamo alla fine Ci siamo Ho cambiato tante armi Ho cambiato di tutto ragazzi Per non farvela durare 3 ore Ho tagliato un pochettino Ma siamo alla fine Amendola Brothers Ho 39 medikit addirittura Ma cerchiamo i prossimi Sono solo 3 Sono solo 3 Guardiamoci bene intorno Siamo rimasti in 3 3 somari 3 briganti Devo vincere Devo vincere Se riesco a vincere Ragazzi la mia prima partita Su 120 Mi sento proprio Un pro player Realizzato Non su fort Altro che nabbo su fortnite Su fortnite Non sono riuscito a vincere qui Ma concentriamoci Guardiamoci bene intorno Guardiamoci bene intorno Perché Ormai la safe zone è piccolissima Accovacciamoci qui dietro la pietra Camperiamo Camperiamo 9 kill ho fatto ragazzi 9 kill Vedete come vedete Sopra a destra 9 kill E sono rimasti 3 Sono rimasti in 3 Dove siete? Si stanno uccidendo fra di loro Tutti e due Lo spero Lo spero Lo spero La safe zone questa è Dove state? Dove state? Dove sei? Bagarospo Dove sei? Due bagarospi sono Sparate così vi vedo Sparate così vi vedo Io sto dietro la pietra qua Non mi muovo E chi si muove ragazzi? E chi si muove? E' meglio che mi muove E' meglio che mi muove Altrimenti Dai C'ho paura C'ho paura Non so se andare E non andare Che devo fare? Comendo la brothers Si Si strofina Sull'erba Ormai Si trascina Sull'erba Per cercare Di vincere Questa partita Dove sta Quello? Dove sta? Fatti vedere In lontananza La safe zone è piccolissima Dove state? Sono due Sono due Siamo rimasti E lui E' morto uno Siamo due Non me ne ero accorto Siamo due Devo trovare l'ultimo Dove sei ultimo? Ultimo dove sei E poi la vittoria è mia Poi la vittoria è mia Dove sta? Eccolo là Eccolo là Non mi ha visto Non mi ha visto Piano 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 Con calma Non mi ha visto Sta andando sulla collinetta Lì e noi lo facciamo da lontano Adesso Dai 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 Spara 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 Spariamo spariamo L'ho colpito L'ho colpito Lo sto uccidendo Spara ancora Si 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 10 kill E vittoria è nostra La vittoria è nostra Primo su 120 La vittoria è nostra ragazzi Non ci posso credere La mia prima partita Vittoria Sono sopravvissuto L'ultimo l'ho ucciso Mamma mia ragazzi Mi sono divertito parecchio Mi sono divertito parecchio ragazzi Bronzo è la prima prima partita Quindi Bronzo 3 Sono ancora Di Come si dice Di rank Quindi Stai facendo meglio di quello che mi aspettavo Dice intanto la guida Ma va bene così ragazzi Va bene così Spero che il video vi sia piaciuto Mi sono divertito tanto Ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate del gioco Fatemi sapere Se lo state Se l'avete già giocato Se è la prima volta che lo vedete Se vi piace Se non vi piace Se è meglio Vabbè fortnite Si vabbè Questo è per cellulare Comunque ragazzi Questo era il video Intanto io Mi prendo tutte le ricompense Che mi ha dato Anche se non so a cosa servono Però Reclamiamo tutto quello Congratulazioni 200 d'oro Vabbè ragazzi Come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Per altri video Con Rules of survival Parodie E molto altro ancora Qui sul canale Degli Amendola Brothers Iscrivetevi al canale Passate dai social In descrizione ragazzi Instagram Facebook Telegram Per rimanere sempre aggiornati Su quello che facciamo Poi può capitare Che il gameplay non vi è piaciuto Perché siete dei fanboy Di fortnite E quindi niente è meglio di fortnite Questo non è meglio di fortnite Per cellulare Però Mettete non mi piace Quindi il video non vi è piaciuto Da parte Del mio bel giovinotto Che abbiamo vinto Madonna Grazie ragazzi Da Jonathan Amendola Di Amendola Brothers Al prossimo video Ciao a io Attenzione Attenzione Iscrivetevi al canale Degli Amendolas Brothers Attenzione Attenzione Chi non si iscrive al canale Stasera Muore Attenzione Attenzione